Comincia ufficialmente domenica 20 settembre la stagione dell'Ucera Calcio che dovrà affrontare lo Sporting Apricena alle 15.30 al Madre Pietra Stadium per il primo turno di Coppa Italia. La gara di ritorno si giocherà invece domenica 27 settembre. I bianco celesti faranno visita alla squadra allenata da Costanzo Palmieri, una compagine giovane e dinamica che vede la presenza di vari elementi provenienti dal Foggia Calcio. Tra le altre gare di Coppa Italia in programma domenica c'è anche Canosa Foggia in Cedit.